Facendo seguito alle numerose sollecitazioni pervenute da un riscontro diretto, ho potuto appurare le difficoltà oggettive che si riscontrano agli ingressi delle scuole elementari e materne del plesso di Santa Maria di Castellabate. Inizia così in una nota la consigliera comunale di Castellabate, Caterina Di Biasi, nel dettaglio all'istituto comprensivo di Castellabate, plesso di Santa Maria. Vi sono due entrate e uscite, in entrambi i casi non c'è nessun tipo di riparo, sottolinea la consigliera, quotidianamente tantissimi genitori in attesa dell'entrata e dell'uscita dei ragazzi si radunano agli ingressi e quando vi sono condizioni meteo avverse, non essendoci alcun tipo di protezione dalle piogge, si genera un disagio per gli alunni, per i genitori, per il personale della scuola. Per queste ragioni la consigliera comunale d'opposizione Caterina Di Biasi sostiene che una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'installazione di pensiline in plexiglass. A tal proposito la Di Biasi chiede un sopralluogo tecnico dei funzionari del comune di Castellabate per verificare la fattibilità dell'intervento, la tipologia del materiale da utilizzare, le dimensioni che dovranno avere le pensiline di relativi costi. Inoltre la consigliera mette in evidenza anche lo stato di abbandono della scalinata d'ingresso e delle aiuole presenti nell'aria. Intanto non mancano le polemiche da parte di qualche genitore. Le pensiline sicuramente, ma ci vorrebbe una totale ristrutturazione delle scuole del nostro comune, si legge in un post su Facebook, versano in condizioni pietose e tragiche edifici che sembrano terremotati. A San Marco di Castellabate porte che non si chiudono, aule con banchi vecchissimi e sedie alle medie che sono adatte a bambini della scuola materna, bagni che non funzionano, scrivanie mobili, tutto in stato di degrado. Io credo che le scuole siano luoghi importantissimi, quindi dovrebbero essere sempre in cima alla lista per un comune che si occupa del benessere dei cittadini.